Grande emozione, è un lavoro che viene avanti da tanto tempo, io dico da 5 anni, 5 anni passati all'opposizione del Consiglio Comunale, 5 anni a costruire una nuova squadra, ci siamo riusciti, è una bella soddisfazione non solo per me ma per tutto il gruppo di persone nuove e giovani che insieme a me hanno condiviso questa grossa battaglia, l'unico rammarico è forse di qualche uscita un po' fuori del seminato nell'ultima settimana ma per il resto è stata comunque una bella esperienza, una bella battaglia che ci ha portato fino a qui ridare alla città un progetto nuovo, diverso e speriamo che nelle prossime settimane dia i risultati che ci aspettiamo prima di tutto noi